Sincronismi difensivi e offensivi sotto la lente di ingrandimento nella seduta mattutina del terzo giorno di ritiro per l'Avellino qui a Cascia. Anche tanto lavoro atletico, ritiro di Cascia, dove oggi sono attesi il direttore generale Massimiliano Taccone e il direttore sportivo Enzo De Vito. La presenza degli operatori di mercato permetterà un confronto diretto con Walter Alfredo Novellino, che non sta facendo mistero appena ne ha occasione, utilizzando varie sottolineature ironiche della necessità di rinforzi in difesa e attacco, ma anche di sfoltire la rosa per lavorare in condizioni ottimali. Si susseguono, in tal senso, i contatti per cedere Benjamin Mokulu e Alessandro Sbaffo. La mezzala marchigiana è nel mirino dell'Albinoleffe. L'attaccante belga è invece più lontano rispetto alle scorse ore dalla Cremonese, che si è fiondata su Gilardino. Per lui potrebbero dunque tornare d'attualità le piste Entella e Bari. Sul binario delle partenze anche Sumare, da cui la regina tende da giorni una risposta dopo aver raggiunto un accordo con la dirigenza irpina. Dovrebbe invece essere tolto dalla lista dei cedibili Idrissa Camarà, che sta soddisfacendo il mister di Montemarano. Durante le sedute di allenamento, per quanto riguarda il capitolo acquisti, gli obiettivi sono ormai noti da tempo. Blanciardo, Gasparetto, più Marchizza per la retroguardia. Morosini, che non ha ancora scartato l'opzione Avellino per l'attacco, tornando al campo, seduta in regime di differenziato per Gidai. Riposo per l'Asic e di nuovo in gruppo il già citato Mokulu. Si torna sull'erba del Magrelli Active Sporting Center nel pomeriggio, poco prima la presentazione dell'attaccante Asensio. Domani alle 17, prima amichievole precampionato contro la compagine dilettantistica locale.